Il rompe negli Stati Uniti in piena campagna elettorale un nuovo video di Donald Trump dai toni volgari e sessisti. Si tratta di un dialogo nel 2005 prima di un'intervista in televisione. Il miliardario parlando a ruota libera si vanta delle facili conquiste. Le sono saltato addosso, dice, ci ho provato e riprovato. Era sposata, conclude Trump. In un altro passaggio ammette di essere attratto dalle belle donne e di provare subito a baciarle. Sono come delle calamite, dice, poi aggiunge, quando sei un VIP puoi permetterti di tutto, assolutamente di tutto. Dal suo sito ufficiale Donald Trump ha bozzato delle scuse, sostenendo che si è trattato di un dialogo tipico da spogliatoi maschili. Intanto la reazione di Hillary Clinton non si è fatta attendere. Via Twitter ha scritto, orripilante, non possiamo permettere che quest'uomo diventi presidente. In questo clima i due candidati si stanno preparando al prossimo dibattito vis-à-vis, previsto per domenica. Il primo duello era stato vinto da Hillary Clinton, ora Donald Trump, dopo la pubblicazione del video, ha una nuova china da risalire. Non è mai avuto, il nostro paio sta affrontando, perché le persone, come la Presidente Clinton... Anchele a tutto, la prima volta che l'anno dedicata a finalmente dopo la spiegazione del video e vLa PIN. Allora, è stata una nuova.